Katia Candida, carissima, dice così Ogni volta che ascolti i tuoi video il cuore respira meglio, grazie Sono immensamente felice In pratica è ciò che io desidero, cioè che le persone si sentano molto meglio Perché io personalmente da quando ho compreso il senso dell'esistenza La mia vita è migliorata tantissimo